Mi trovo assolutamente a mio agio qui dietro perché io continuo a cuocere la piadina a casa di mia mamma che a differenza di mia moglie invece continua a farla esattamente in questo modo. È il nostro prodotto identitario, è un prodotto di grande qualità, ma in realtà è anche il modo, l'occasione per trovarci, per stare a tavola e per degustare al meglio i nostri prodotti, in particolare salumi e formaggi. Oggi il Festival del Cibo di Stata è un grande evento non solo per la nostra città, lo è ormai almeno per l'intera Emilia-Romagna e attira persone, devo dire, da una buona parte d'Europa nelle edizioni che riescono al meglio come è accaduto sino ad oggi. Quindi è veramente un evento importante per noi. Siamo partiti da una fase di profonda revisione della nostra economia, da una crisi economica, simile per dimensione almeno per questo territorio a quella attuale e dal di lì è partito un pezzo di economia nuovo. In realtà sono cambiate anche alcune delle condizioni, le piadaiole hanno consentito alle persone di trovare anche un po' il gusto dell'incontro e la piadina è questo soprattutto. La piadina è un tesoro storico della città di Cesena, ognuno in Romagna ritiene di avere la piadina più buona e naturalmente anche noi a Cesena siamo di questa idea. Già dagli anni 60 c'erano e sono nati quelli che sono diventati i chioschi della piadina, inizialmente avevano strutture un pochettino differenti e nascevano proprio dalla difficoltà che aveva il comparto agricolo-industriale che non riusciva più a soddisfare le esigenze lavorative di tante persone. Dal di lì alcune donne hanno cominciato a dare vita alla somministrazione e vendita della piadina che è diventata poi quella che conosciamo oggi nei tradizionali chioschi. Molti turisti che frequentavano e che frequentano la Riviera Romagnola apprezzavano molto questo prodotto e ne portavano a casa grossi quantitativi. Da qui il fatto di voler presidiare questo tipo di alimento è molto importante per noi e è molto simpatico anche davanti alle aspettative delle persone. Nel 2000 è così nato il Festival Internazionale del Cibo di Strada che per noi aveva il significato di partire dall'elemento piadina come proposta tipica appunto da mangiare passeggiando per strada. Tutte le persone in buona fede ritengono che l'IGP sia una tutela del consumatore e questo è ciò che è passato anche fra molte persone anche nella stessa Cesena nelle stesse realtà ricche di chioschi di piadina per cui immaginiamo che fuori da qui ancora più facilmente si ritiene che sia un modello di riconoscimento che vuole valorizzare il prodotto. In realtà c'è un paradosso di fondo che noi andiamo a contestare che contesteremo anche prossimamente che è che per poter chiamare piadina romagnola a questo prodotto occorre sottostare a un disciplinare che è stato concepito e costruito sulla base di quelle che sono le esigenze dell'industria della piadina. Una delle cose se vogliamo anche belle e caratterizzanti della piadina è che ci sono piccole differenze che possono variare a distanza di pochi chilometri da un luogo all'altro anche da un chiosco all'altro per cui ci può essere il chiosco che storicamente mette pochissimo miele nell'impasto il chiosco che mette un goccio di latte e quindi ci sono piccolissime sfumature queste sono proibite dal disciplinare per cui il chiosco che utilizza un determinato argomento anche in minima misura o non lo utilizza più e si deve associare a quel modello di piadina che è descritto dal disciplinare oppure se lo utilizza non può più chiamarla piadina romagnola e questa è assolutamente un'assurdità per come è stato concepito e per il tema di voler valorizzare il prodotto piadina. Grazie a tutti! Grazie! Grazie!